La polizia ha eseguito nuove ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Caltanissetta a carico di condannati in primo grado nel processo Cobra 67. Un destinentario del provvedimento non è stato ancora rintracciato. Sono tutti accusati di spaccio di droga, attentati e distorsione. In carcere sono finiti Francesco Fiandaca, condannato a 12 anni di reclusione, mentre ai domiciliari sono andati Luana Scarlata, sempre condannato a 12 anni di reclusione, Mauno Elmosca 16 anni e 7 mesi, Salvatore Sanfilippo 8 anni, Marianna Ventura 10 anni di reclusione, mentre Fabio Celeste è stato sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Caltanissetta, condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione, Claudio Candura sottoposto all'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria di firma e giudici Maurizio e Antonio Giudici sono stati sottoposti anch'essi al divieto di dimora nella provincia di Caltanissetta. Il provvedimento è stato emesso dal giudice che ha ravvisato la pericolosità sociale dei condannati.